Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità. Domenica in città arriva il Giro d'Italia. La tappa conclusiva della Corsa Rosa sarà tra l'Eur, Ostia e il Centro. Il piano mobilità con le chiusure al traffico e le modifiche che interesseranno 70 linee tra bus e tram sono in dettaglio su romamobilita.it. Durante il Giro d'Italia di domenica saranno possibili anche temporanee chiusure per le stazioni metro di Colosseo e Circo Massimo.